Allora, secondo l'Ox, l'Italia quest'anno registrerà, come tutti sappiamo, una contrazione del PIL dello 0,4%, dimostrando quindi di essere in recessione e di ottenere il peggior risultato tra i paesi del G7. Anche per il 2016 la stima dell'Ox e del PIL italiano è negativa, nonostante sia prevista nel 2015 una possibile timida ripresa dello 0,1%. Già ai primi di agosto ricordiamo che l'Istat aveva certificato il calo del PIL dello 0,2, dato peggiore da 14 anni a questa parte e l'agenzia di rating Standard & Poor ha confermato di recente la criticità della situazione economica del nostro paese, tagliando quindi le stime del prodotto interno lordo, portandole a 0 dal precedente, più 0,5% previsto a giugno e spiegando che i ritardi nella realizzazione delle riforme strutturali annunciate fino ad oggi dal governo hanno impedito una risalita della fiducia di imprese e investimenti. Una situazione quindi che non solo noi denunciamo critica ma che naturalmente i numeri oggettivamente dimostrano essere molto critica. Nel suo rapporto Standard & Poor parla dell'incapacità dell'Italia di uscire dalla recessione nel corso di quest'anno e spiega di avere sovrastimato alcuni fattori nelle sue precedenti stime, come in particolare le misure di stimolo annunciate in marzo dal Premier Matteo Renzi, come gli 80 euro che in realtà secondo Standard & Poor non hanno avuto alcun effetto sui modelli di spesa. Infatti da tali provvedimenti inizialmente Standard & Poor prevedeva una stima con un impatto positivo sulla crescita italiana pari allo 0,3% del PIL, mentre ora dichiara che appare più plausibile soltanto un 0,1%. Per quanto riguarda l'eurozona il PIL è stato rivisto a ribasso, sceso dall'1,2% allo 0,8% dagli analisti dell'Agenzia Standard & Poor che hanno individuato questi tre fattori alla base dei segnali di debolezza della zona dell'euro. La crescita degli scambi mondiali abbastanza modesta, in secondo luogo gli investimenti dalle aziende che hanno mostrato solo piccoli segnali di presa e infine le sofferenze dell'Italia divenute più pronunciate. A causa di una politica di grandi annunci e pochi fatti il nostro Paese sembra quindi versare in una stagnazione economica che di fatto non solo ci rende il fanalino di coda del G7 ma anche una minaccia per l'eurozona stessa come sottolineato proprio dall'Agenzia di Rating. Se il Presidente del Consiglio quindi sia consapevole della situazione in cui versa il nostro Paese siamo proprio qui a capire anche dai rappresentanti del Governo cosa ne pensano in merito anche perché effettivamente come già ribadito non siamo gli unici a renderci conto della criticità della situazione. Confindustria stessa e il Centro Studi di Viale dell'Astronomia rivede le stime meno 0,4% per il PIL del 2014, ricordiamo che manca lavoro a 7,8 milioni di persone, i prezzi sono al palo, gli investimenti sono ancora giù e i consumi in timida ripresa. Io ho presentato questa interpellanza lunedì scorso e secondo il calendario dell'aula di questa Camera sarebbe stata trattata di venerdì pomeriggio e in un qualche modo temevo di aver presentato un atto che sarebbe stato inutile proprio perché il giorno dopo il Presidente del Consiglio veniva a riferire in Parlamento e aveva promesso che in quell'occasione avrebbe parlato dei dati dell'Ox sulla caduta del PIL e dando tutte le risposte in merito. In realtà poi mi rendo conto che ancora importante resta invece l'interpellanza perché proprio martedì il Presidente del Consiglio ha mancato la sua promessa e non ha praticamente parlato né dei dati dell'Ox in maniera costruttiva né ha saputo spiegare quali erano le sue intenzioni in merito per l'appunto alla criticità della nostra economia. Nel breve accenno che ha avuto martedì il Presidente del Consiglio si è compiaciuto del fatto che i numeri non sono più quelli devastanti di qualche mese fa sottolineando quasi il bello del meno 0,2% dell'Italia visto che tra virgolette negli anni precedenti stavamo peggio. Forse però è importante che ci si renda conto che cadere più lentamente non vuol dire risalire vuol dire solo cadere più lentamente. Inoltre questo rallentamento potrebbe essere una conseguenza della stagnazione economica della deflazione nella quale l'Italia sta entrando. Una vera e propria palude da cui vorremmo capire quindi quali sono in un qualche modo le azioni che vorrà tenere il Governo anche alla luce dei deludenti risultati finora messi in atto dal punto di vista economico risultati che si potevano già toccare con mano nell'impoverimento crescente degli italiani e che sono stati tristemente confermati dagli analisti internazionali. Vorremmo anche conoscere e sapere in che modo intenda giustificare quindi il Governo le stime palesemente errate fatte precedentemente sulla crescita del PIL e sulla base delle quali è stata costruita invece la politica economica di questo Governo. Infine sarei ben lieto anche di conoscere con quali misure il Governo voglia intervenire in merito alla drammatica situazione quindi in cui versa il nostro Paese sia in sede nazionale attuando quelle che dicevamo prima le tanto annunciate riforme strutturali ma soprattutto in sede europea anche in considerazione proprio del ruolo centrale che il semestre italiano dell'Unione Europea conferisce al nostro Paese e che però finora non sembra aver dato in nessun modo risultati aspettati. Grazie. Mi perdonerà l'onorevole interpellante se affermo che rispetto alle questioni che sono state poste legittimamente con l'interpellanza ricordata anche pochi minuti fa il Presidente del Consiglio dei Ministri con l'informativa urgente sulle linee di attuazione del programma di Governo onestamente a me sembra che abbia risposto in maniera molto puntuale e articolata così come mi perdonerà se ricordo che dopo questa informativa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre ci sarà un altro appuntamento molto importante che rappresenterà una risposta più compiuta a tutte le questioni inerenti alla situazione economica italiana e verrà fornita proprio all'interno della nota di aggiornamento del DEF che verrà presentata il primo di ottobre. Per entrare nel merito di alcune questioni che invece sono state anche ora nell'illustrazione ricordate mi permetto di ricordare che le stime di crescita contenute all'interno del documento di economia e finanza del 2014 non erano sostanzialmente difformi da quelle formulate dalle principali organizzazioni internazionali e dalle previsioni di consenso. Le principali informazioni in quel momento a disposizione del Governo erano che in primo luogo nel corso del 2013 la crisi economica si era andata attenuando e il dato di contabilità nazionale più aggiornato fornito dall'Istat evidenziava che nel quarto trimestre di tale anno si era verificata una leggera espansione del prodotto interno lordo. Inoltre gli indicatori, quali il clima di fiducia delle famiglie e il clima di fiducia delle imprese, nei mesi primaverili, si erano portati su livelli favorevoli. D'altro canto, anche le assunzioni sul quadro macroeconomico internazionale formulate in completa coerenza con quelle della Commissione europea indicavano delle condizioni più favorevoli di quelle effettivamente realizzatesi. Queste evidenze supportavano in maniera rilevante l'ipotesi di una ulteriore sia pure graduale espansione dell'economia nel corso del 2014. Quanto agli effetti delle politiche messe in campo dal Governo, si premette che il loro successo non si può commisurare solo al prodotto interno lordo a distanza di pochi mesi dal suo insediamento, ma dovrà riguardare l'intero arco della legislatura. Del resto, lo stesso programma che pochi giorni fa in quest'Aula esposto il Presidente del Consiglio conferma sostanzialmente le cose che in questo momento il Governo sta articolando sull'interpellanza in oggetto. In ogni modo, non esiste alcuna evidenza che le misure prese dall'attuale esecutivo non abbiano avuto effetti favorevoli, anche immediati, sui cittadini e sull'economia. Per quanto riguarda poi il provvedimento sugli 80 euro, si fa presente che tale iniziativa intendeva soprattutto dare un supporto ai redditi delle fasce medio-basse. Questo risultato si può considerare senz'altro raggiunto e verrà confermato dall'Istat in occasione della diffusione dei dati sulle famiglie, redditi e consumi. Infatti, sulla base della contabilità trimestrale, i consumi privati risultano una delle variabili in crescita. Da un punto di vista generale, tuttavia, si conviene, del resto lo ha fatto puntualmente e con grande onestà lo stesso Presidente del Consiglio ieri l'altro, si conviene che l'economia italiana attraversa una fase di difficoltà legata anche alla complessa situazione delle imprese finanziarie e del settore industriale, come conseguenza della profonda crisi attraversata negli ultimi anni. Il Governo ha ben presente questa situazione e considera importante insistere sul percorso delle riforme per porvi rimedio. Altro proposito, sarà necessario anche favorire gli investimenti pubblici e privati che al momento rappresentano la componente più debole della domanda aggregata. Per queste ragioni, come ho ricordato all'inizio, si ribadisce che una risposta più compiuta a tutte le questioni inerenti alla situazione economica italiana verrà fornita proprio all'interno della nota di aggiornamento del DEF che verrà presentata in data, primo ottobre. Grazie. L'onorevole Soria ha la facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Complessa situazione delle imprese finanziarie e del settore industriale, come conseguenza della profonda crisi attraversata negli ultimi anni. Il Governo ha ben presente questa situazione e considera importante insistere sul percorso delle riforme per porvi rimedio. Altro proposito, sarà necessario anche favorire gli investimenti pubblici e privati che al momento rappresentano la componente più debole della domanda aggregata. Per queste ragioni, come ho ricordato all'inizio, si ribadisce che una risposta più compiuta a tutte le questioni inerenti alla situazione economica italiana verrà fornita proprio all'interno della nota di aggiornamento del DEF che verrà presentata in data, primo ottobre. Grazie. L'onorevole Soria ha la facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prima di dichiarare se mi ritengo soddisfatto o meno, io ringrazio il sottosegretario, lo perdonerò per la sua buonissima fede e presunzione che il Presidente del Consiglio abbia risposto puntualmente alle questioni economiche martedì scorso, cosa che non ritengo vera. Ricorderà e ricorderemo tutti il fatto che alle nostre richieste di capire quali azioni concrete economicamente parlando voglia attuare il Governo, c'è stato risposto con un discorso sui mille giorni, una richiesta di ancora altri ulteriori giorni, pur essendo il Governo Renzi a più di 200 giorni di governo ormai dalla proclamazione. E quando in realtà c'era già un piano dei primi 100 giorni, quando in realtà si potevano fare cose, si potevano attuare programmi in una quarantina di giorni, come abbiamo dimostrato anche con una serie di nostre proposte di legge e con una serie di nostre azioni anche dal punto di vista economico. Perché dico questo? Perché mi rendo conto sempre di più che una cosa sono i fatti concreti che si potrebbero fare dal punto di vista economico, una cosa sono invece quelle che vengono dette e le azioni mediatiche che vengono intraprese dal Governo e dai vari rappresentanti del Governo. Faccio un esempio. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, parlando dei dati dell'Ocse, ha dato delle generiche rassicurazioni dicendo che non ci costringeranno a nessuna manovra aggiuntiva, ma confermandoli e sottolineando che siamo in recessione da tre anni. Vede, sottosegretario, ci sono due questioni. Se siamo in recessione e abbiamo dei dati negativi da tre anni e i dati sono quelli che abbiamo e i numeri sono quelli che vediamo e la nota di aggiornamento del DEF del primo ottobre è quella che bene o male sappiamo che stima avrà e abbiamo anche l'appuntamento del 15 ottobre con la legge di stabilità. Vuol dire che da qualche parte qualcosa bisognerà fare, purtroppo. Vuol dire che le risorse da qualche parte dovranno essere prese. Vuol dire che l'appuntamento europeo che abbiamo avuto del semestre europeo sarebbe potuta essere l'occasione per andare a modificare dei vincoli economici e contabili che quotidianamente, diciamo in questa aula, ci strangolano dal punto di vista economico e contabile, ma che in realtà il Governo non ha alcuna intenzione di modificare. E parlo del pareggio di bilancio, per esempio, ossia della legge 243 del 2012 che è andata a inserire l'articolo 81 della Costituzione e il pareggio di bilancio, che in questo momento può essere anche una regola dal punto di vista ideale e corretta, ma ci rendiamo conto che non ci permette di fare tutti quegli investimenti produttivi che in realtà porterebbero, tutti questi investimenti produttivi, a quelle tanto agognate riforme strutturali che il Paese si sta aspettando. E quando parliamo di riforme strutturali non intendiamo naturalmente le riforme dal punto di vista costituzionale o le riforme dal punto di vista dello Stato. Intendiamo tutte quelle riforme dal punto di vista occupazionale, intendiamo una riforma che vada a dare una spiegazione, vada a dare una soluzione al 12% di disoccupazione in Italia. Parliamo di riforme che vadano a fare qualcosa per tutte quelle persone che di reddito non ne ha. Lei ha detto degli 80 euro, parlando dei redditi e dei consumi, gli 80 euro che non ci sono studi che diano indicazione che ci sia un impatto negativo degli 80 euro. Le ho già citato quello che è stata l'analisi di Standard & Poor's in merito alle stime di crescita che si avevano inizialmente attraverso questi 80 euro e invece le stime al ribasso che ha dovuto dare dopo qualche giorno, dopo qualche mese che si sono attuate queste azioni. Ma il problema non sono nemmeno gli 80 euro, il problema è che lei parla di redditi e consumi, ma sappiamo che in Italia c'è un milione di famiglie che non ha neanche un reddito e milioni di famiglie che non ha neanche il reddito non sa nemmeno cosa siano gli 80 euro, perché purtroppo non avendo neanche un reddito quegli 80 euro non sa effettivamente cosa siano. E quindi stiamo qua a parlare di consumi e poi in realtà sappiamo come funzionano le cose. Possiamo stare qua a parlare di consumi e poi sappiamo che un aumento dell'IVA, cosa che è stata fatta in passato e cosa che sembra dalle agenzie di stampa si vogliono in qualche modo ripetere, in realtà non porta un aumento di consumi, non porta nemmeno un aumento delle risorse recuperate dallo Stato, perché andando a colpire l'IVA, come abbiamo visto in passato, si restringono i consumi perché naturalmente aumentano i prezzi. Quindi ci sono tutta una serie di azioni intraprese, quelle poche che sono state intraprese in passato, che in realtà non hanno dato nessun conforto alla popolazione italiana dal punto di vista economico. E in più, su alcune questioni economiche su cui stiamo parlando e di cui stiamo discutendo ormai da mesi, non si vuole intraprendere nessuna azione. E non è un problema nemmeno a livello europeo, nel senso, noi possiamo andare a vedere altri Stati e andiamo a vedere che in Europa altri Paesi si stanno in realtà muovendo. La Francia decide da sola ciò che deve fare in termini economici e di bilancio. È una frase che ha detto il Premier francese Emmanuel Valls, rivolgendosi sia alla Germania sia alla Commissione di Bruxelles, nel discorso di politica generale in Parlamento. Nel suo discorso solenne all'Assemblea nazionale, si è affermato rifiutare l'austerità per difendere i più poveri, escludendo categoricamente di deviare dalle riforme economiche intraprese e impegnandosi a controllare la spesa pubblica per raccogliere, come promesso, 50 miliardi di risparmi entro il 2017. Per tanti, anche la Germania deve assumersi le proprie responsabilità di fronte alla crisi della crescita nella zona euro. E come altri paesi in Europa fanno, noi vorremmo anche ricordare quello che altri paesi in Europa hanno dovuto subire. Se non riusciamo a risollevare la questione economica italiana, ci troveremmo, speriamo di no, in situazioni economiche gravi, come quelle che hanno colpito alcuni paesi della zona euro, come quelli che hanno colpito alcuni nostri paesi confinanti. E pensare di inserire le operazioni, tra virgolette, criminali all'interno del calcolo del PIL non può essere un'azione che in un qualche modo si ritiene, che possa in un qualche modo risollevare le sorti dell'economia. Intendo inserire all'interno del ricalcolo del PIL la contraffazione, la prostituzione, dal punto di vista numerico, per andare a valutare e calcolare il PIL, non può essere una soluzione. Non dimenticheremo come nel 2006 la Grecia rivalutò a nottetempo del 25% proprio PIL, includendo stime fantasiose circa la dimensione dell'economia sommersa e dell'economia criminale. Questo non ha salvato la Grecia dalla situazione in cui è oggi. Quindi non mi ritengo soddisfatto. Quindi non mi ritengo soddisfatto perché gli appuntamenti che ci aspettano, il primo ottobre come lei ha ricordato con la nota di aggiornamento, e il 15 ottobre per quanto riguarda la legge di stabilità, sono appuntamenti troppo importanti per il nostro Paese. Noi non dimenticheremo mai quello che è successo in legge di stabilità l'anno scorso. In legge di stabilità l'anno scorso, pur denunciando da mesi questioni economiche, situazioni economiche disastrose, si è permesso a una serie di deputati e senatori di questo Parlamento di introdurre norme localistiche e microsettoriali, cosa che come lei ben sa invece non è possibile, dato che la legge di stabilità è governata dalla legge di contabilità. Invece ci siamo ritrovati in Commissione bilancio a dover discutere e cercare di eliminare tutti quegli emendamenti personali con prime firme e deputati che siedono qua su questi banchi negli altri partiti, che richiedevano magari dei fondi per le proprie fondazioni, o ed erano quelle che noi abbiamo chiamato marchette. Io non voglio ritrovarmi, la nostra Commissione, il nostro gruppo parlamentare non si vuole ritrovare a ottobre in legge di stabilità, dove aver passato un anno a dire che non ci sono i soldi, che non ci sono le risorse, a dover votare contro e fare delle battaglie in Commissione per far votare contro anche i nostri colleghi degli altri partiti contro norme localistiche e microsettoriali, perché se non ci sono i fondi, non ci sono i fondi. E se lei va a vedere lo storico dell'anno scorso, la legge di stabilità si è sprecato un miliardo di euro, un miliardo di euro in emendamenti cosiddetti Marchetta. Posso fare l'esempio dell'emendamento per una fondazione, la Fondazione Sud del Mondo, dove venivano chieste delle risorse. L'emendamento era prima firma di un deputato di un partito presente in questa Camera. Siamo andati a verificare sul sito internet la Fondazione Sud del Mondo. La Fondazione Sud del Mondo è la fondazione di quello stesso deputato. Si rende conto che non possiamo permetterci delle cose del genere con i nostri soldi, con i soldi dei nostri cittadini. Quindi spero, auspico, mi auguro, e noi siamo qua anche per aiutare il Governo a questo punto di vista, che vengano intraprese delle azioni economiche che rimettano in sesto l'economia italiana. Grazie. Grazie a lei.